ciao allora oggi sfogliamo il primo album del 2019 del livro che valido fino al 14 febbraio del 2019 allora ovviamente tutti i set per san valentino poi ovviamente troviamo tante promozioni ed offerte tra cui anche un pennello da cipre in omaggio con 25 euro l'ho segnato di acquisto di prodotti make up promozione sulle prodotti labbra e poi la novità quindi abbiamo un prodotto in omaggio con 15 euro di acquisto di tutto il catalogo e sia il nuovo antietà che è un'anteprima quindi ancora non è disponibile in vendita quindi wow e poi dopo direi che è ora di sfogliare il catalogo eccoci allora iniziamo questo è il sommario vediamo intanto vediamo che con 25 euro di prodotti make up si è in omaggio il pennello da cipria prima promozione è questa delle matite labbra perché acquistando ogni tipo di rossetto sia la matita soli 5 euro con il codice rosso scegliendo il colore i rossetti tutti quelli disponibili quindi ed è questi con i vari finish il gran rouge con il finish ovviamente matte e satinato oppure c'è questo che è le gran luce elixir che è una tinta oppure l'effetto perlato ci sono davvero tanti effetto satinato eccola qua quelli brillanti il vertige oppure il rosso quindi fino a tutti i rossetti mattita labbra a 5 euro altra promozione che vi mostro che fa sempre parte dei 25 euro di acquisto per avere in omaggio il pennello da cipria sono gli smalti 2 per 5 euro infatti abbiamo tutti i colori che vedete qui tutti quanti ne scegliete uno col codice nero uno col codice rosso e tutti e due sono a 5 euro ovviamente tutti gli altri prodotti di make up ecco di qua i ombretti le matite il mascara correttore il primer e i vari fondotinta fanno tutti parte dei 25 euro per avere in omaggio il pennello da cipria vediamo ora l'altra promozione che la leggiamo meglio in questa pagina qui eccola 15 euro di acquisto per tutto l'album tranne i prodotti make up ovviamente per avere in omaggio ed è la mini taglia del 7 ml del nuovo prodotto della crema anti age globale quella che adesso è un anteprima e sarà nel prossimo catalogo quindi 15 euro e 6 in omaggio al prodotto tra tutte le linee di creme ovviamente a tutto l'album quindi le creme del creme riso ora vediamo anche il set eccolo qua il primo dell'idra vegetale e già detergente plutonico ovviamente anche della stavo vegetale sempre detergente plutonico pur system detergente e tonico e sensitive vegetale detergente e tonico più tutti gli altri prodotti comunque sia sempre 15 euro tutto l'album per avere ed è in omaggio la mini taglia di anti age global quella nuova vediamo ora i set per san valentino eccoli qua sono vari set di varie misure quindi 9 95 quella che comprende con la borsina il set ad esempio vivace che comprende il bagno doccia pesca e anice stellato più il bagno doccia mango e coriandolo e latte corpo mango e coriandolo oppure abbiamo set energizzante con il bagno doccia melograno e peperosa bagno doccia lampone e menta piperita e latte corpo sempre lampone e menta piperita oppure quello rilassante col bagno doccia magnoglia e tè bianco bagno doccia mandorle frigo d'arancio e latte corpo mandorle frigo d'arancio sempre 9 95 oppure quello sensuale con il bagno doccia vaniglia barbo bagno doccia noce di cocco e latte corpo sempre cocco altri set invece comprendono delle tutte le varie profumazioni il detergente per le mani più la crema mani a 5 95 set un pochino più grandi e 14 95 abbiamo quelli che comprendono ad esempio il set di base bagno doccia mango e coriandolo da 200 ml più latte corpo sempre mango e coriandolo da 200 ml sapone liquido per le mani sempre mango e coriandolo la crema mani sempre mango e coriandolo ovviamente e il bagno doccia pesca e anice stellato che è una novità oppure il set rilassante con il bagno doccia olive petit grain con anche il latte corpo il sapone la crema mani al fiordiloto e salvia e il bagno doccia fiordiloto e salvia più ovviamente il cestino poi ci sono anche per le altre profumazioni quindi quindi energizzante il sensuale oppure quelli un pochino più grandi di set quindi 19 95 ad esempio set vaniglia barbon che comprende il bagno doccia da 400 ml più latte corpo da 390 ml il sapone liquido per le mani la crema mani salvietta ospite e il cofanetto e poi c'è anche al profumo noce di cocco oppure mango e coriandolo vedendo invece i set per l'uomo ci sono quelli per la rasatura quindi la rasatura pelle sensibile che comprende la schiuma da barba e il basso morto male o pelle sensibile oppure le profumazioni eccola qua che compagno il profumo più il gel doccia a corpi capelli poi vediamo anche l'ultima promozione che è quella per le mani quindi con il concentrato antifreddo arricchietto al karité che questo è molto valido la crema mani lunga durata a 6 euro e 95 e questo era tutto l'anno eccoci abbiamo sfogliato tutto il catalogo avete visto tutte le offerte novità promozioni tutto vi ricordo come sempre che qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini trovate sempre anche il link per scaricare il catalogo di formato pdf così potete tranquillamente sfogliarlo sui vostri dispositivi multimediali e non mi resta che augurarvi buoni acquisti attualmente profumati con le magico attuale mondo di brochet